Allora, in questi cinque anni sono stati abbastanza positivi, con i professori che sono stati sempre molto disponibili e sono riuscita a legare molto con alcuni compagni di classe. Oltre allo studio normale facciamo anche molte attività alternative, molti progetti, esperienze che non tutte le scuole possono permettersi di fare. Questi cinque anni sono stati molto importanti per la crescita mia e di tutti i miei compagni di classe. Abbiamo conosciuto un sacco di persone che ci hanno fatto imparare un mestiere importante per il comprensorio del cuoio e ci hanno dato anche un'importante infarinatura per il nuovo contesto universitario. Soprattutto ho stretto importanti amicizie con bravissimi ragazzi e credo che sia questa la cosa più importante. E comunque le scuole superiori devono darti un po' qualche lezione di vita e devono cercare di portare a termine un percorso in cui alla fine tu sei una persona pronta al mondo del lavoro e in generale una brava persona. Sono stati sicuramente cinque anni lunghi, difficili, con alti e bassi, che però ci hanno portato ad una grande soddisfazione alla fine del percorso e sicuramente ci hanno aperto tante porte. È una bella scuola che come ho detto ti apre molte porte e ti dà una buona visibilità del mondo che può essere dopo. Allora, questi cinque anni sono stati un'esperienza ricca di vari avvenimenti, nuove conoscenze, amicizie, la creazione di gruppi all'interno della classe, un clima molto positivo. Cinque anni che alla fine sono volati perché mi ricordo il primo giorno di scuola quando entrammo praticamente bambini in questo nuovo ambiente, gli insegnanti che ci dissero che sarebbero stati cinque anni che sarebbero volati. Ora sono qui a ritirare il diploma, dopo cinque anni ricchi anche di progetti, di cambiamenti, non solo di una lezione frontale, ma di nuove conoscenze. È stata un'avventura, un bel viaggio e quindi sono contento di aver portato a termine questa bella esperienza. Sono stati cinque anni, sembrano tanti, in realtà poi passano veloce, sono stati ricchi di emozioni, ho conosciuto tantissime persone in gamba e credo che ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, sinceramente. Eravamo prima in seconda una classe, poi in terza ci siamo uniti perché abbiamo cambiato indirizzo, quindi ho cambiato la classe, ho cambiato i professori e tutto, però devo dire che comunque, anche se all'inizio è un po' dura, però questa scuola fa di tutto per cercare di unirti. Per me sono stati cinque anni bellissimi, sinceramente. Allora, per me questi cinque anni sono stati molto importanti perché comunque sono stati determinanti per la scelta che ho intrapreso, visto che al momento frequento la facoltà di economia e convergio all'Università di Firenze e sono stati cinque anni duri, ma comunque pieni di grandi soddisfazioni, visti i risultati e visto l'impegno che ci ho messo sempre. Questi cinque anni al Cattane per me hanno rappresentato un percorso formativo in tutti gli ambiti, sia nell'ambito scolastico che nell'ambito dei rapporti con gli amici e dei rapporti con i professori. Sono andati a creare appunto dei rapporti speciali che portiamo avanti ancora adesso. In più ho concluso questo percorso con una soddisfazione massima che è stato il Cento, che sono riuscita a conquistare e è stata proprio la ciliegina sulla torta. Sono stati sicuramente cinque anni in cui sono cresciuto e maturato, perché comunque si arriva alle superiori a 14-15 anni e poi se ne esce maggiorenni e quindi ci tenevo a ringraziare tutti i professori, i miei compagni, perché mi sono trovato bene e appunto sono uscito più maturo e con un senso di collaborazione in più rispetto all'inizio. Sono stati pieni di gioie, dolori, anche perché in TETRA ci siamo uniti ad alta classe, quindi nuove avventure, nuove amicizie, nuove sensazioni, però ci siamo dati una mano a vicende e questa è una cosa bellissima. Anche se i professori cambiano quasi ogni anno, però poi l'atmosfera che si crea con tutti è stupenda. Sono stati sicuramente una crescita, però non solo dal punto di vista educativo, è una crescita proprio che ti coinvolge a 360 gradi, quindi una crescita anche mentale e anche di quelli che sono i rapporti con le persone, quindi con gli amici, con i professori, con tutte le persone che incontri durante il tuo percorso. La metafora giusta che utilizzerei è un trampolino, per me il Cattano è stato un trampolino di lancio. Sono entrato bambino, esco, non dico uomo, dico ragazzo più grande, ragazzo più maturo, pronto ad affrontare il mondo, pronto ad ogni tipo di venienza. Quindi grazie Cattano.